ci siamo oggi è il grande giorno stiamo andando a milano e come visto nel titolo andiamo da norma stitching ho preso il treno da vergamo a milano poi metropolitana e infine un ultimo tratto a piedi per raggiungere gli uffici di norma stitching prima di entrare negli uffici devi sapere che io le altre ragazze invitate abbiamo scritto dei bigliettini abbiamo preparato una sorpresa per norma e il suo team buongiorno saliamo con elisa ma siete pronti ora benvenute il non c'è però attenta solo al filo che è in campo e poi tipo usiamo anche il screen, lo scriviamo sopra, poi facciamo The Hub di Nod La mia hand writing è terrible, Nola hates la mia hand writing Scrive troppo male No, non è vero Non è vero Non è vero No, non è vero Allora Abbiamo fatto alcuni... Allegazioni against Against... Depressament Non chiedetevi perché non è vero I would start Hello and welcome to this new vocabulary lesson together No Due sulle dinamiche non mi ha fatto quella che volevo passare No 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 Ah, ci sono Sì, ce li sono Sì Sì c'è la sinistra la prima volta io volevo acceso mi piace io io guarda il primo perché non c'era io no 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 dobbiamo mettere i telefoni in modalità ah no hello and welcome to a new vocabulary lesson together today we're gonna learn different ways to introduce yourself I have some special guests that will teach you these different functions and expressions let's start with some greetings wow wow ok hey 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 my name is vanessa no my name is vanessa no no my name is vanessa glad glad to meet you glad to meet you glad glad ah questo possiamo farlo senza la t visto che l'altra abbiamo fatto c'è possiamo fare glad to meet you ok glad to meet you i'm happy to finally meet you i happy to i happy to i'm happy to finally meet you i'm happy to finally meet you i come from bergamo no ok i come from bergamo ha ha è con la v si però quando parliamo velocemente diventa una f quindi è proprio ha esatto ok i have to perfetto there we go wow 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 la tua mente vuoi la copertina l'immagine di copertina ah nono temi no no i'm gonna be like ah vado per le questiona ah però quando ti hai fatto fare una lecce vado a vedere qualcuna av Gianca, l'ho visto no ah vogliamo farla dopo? adesso ne faccio una foto con una camera ok che va ok è questa è questa cosa va ok quindi l'ultima non prendere appunti non prendere, non prendere, ma pulso friend so the second so the second pulso friend is to a point Vanessa, do you know what it means? ok perfetto no no, ti dice dai dire al primo appunti ok Vanessa, do you know what it means? yes prendere appunti prendere appuntamento no indicare no, sorry king of kings I'll just say king I want you king no andiamo I only king i 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